Ed eccoci qua a compleanno delle caviette mentre stanno per aprire spacchettando il regalo. Ecco, vediamo cosa c'è in questo regalo. Ecco, con i loro cappellini. Ecco, guardala, guardala, è questo amico Winnie che li guarda, vuole partecipare anche lui. Eccole, wow, qual è la sua torta, la loro torta di verdure e compiono oggi un anno, eccoci.